Benvenuti al consueto appuntamento con il nostro telegiornale, apriamo il nostro notiziario con un'ampia pagina dedicata alla cronaca, dalla droga al caporalato fino allo smaltimento illecito di rifiuti nei campi. La polizia di Stato ha condotto in questi giorni un'attività di controllo ad alto impatto tra i territori di Gela e Niscemi. Con ordinanza del questore di Caltanissetta, Pinuccio e Albertino Agnello, sono stati impiegati oltre 330 operatori di polizia. Il punto in questo servizio. Dalla continua lotta allo spaccio di stupefacenti e gli interventi nelle campagne contro il caporalato e contro l'abbandono dei rifiuti, passando per i controlli serrati su allevamenti, corse clandestine e combattimento tra cani e sulle irregolarità relative alle agenzie funebri. Quella condotta sul territorio nisteno dagli agenti della Polizia di Stato è stata un'operazione imponente che ha visto coinvolti oltre 330 operatori di vari reparti. L'operazione ad alto impatto ha interessato più aree di interesse economico-commerciale, luoghi frequentati abitualmente da pregiudicati e soggetti di interesse investigativo nei territori di Gela e di Niscemi. Le 22 perquisizioni alla ricerca degli stupefacenti, grazie alla collaborazione delle unità cinofile, hanno permesso di eseguire un arresto in territorio di Gela e di denunciare altri quattro soggetti, tutti per detenzione di hashish o marijuana, ai fini dispaccio. Fare i puntati anche sullo sfruttamento lavorativo e sul caporalato. I controlli hanno interessato cinque aziende agricole. Gli agenti hanno individuato il cosiddetto caporale, ovvero colui che recluta e approfitta dello stato di bisogno dei lavoratori, consegnandoli all'azienda agricola il regime di sfruttamento. Personale della squadra mobile del commissariato di pubblica sicurezza di Gela ha ascoltato 60 lavoratori, 24 ai quali stranieri regolari. All'esito dei controlli sono state sospese tre aziende agricole. Sono stati denunciati in stato di libertà all'autorità giudiziaria due titolari per numerose violazioni del testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 18 lavoratori regolari trovati all'interno delle serre e al momento oltre 25 mila euro di sanzioni contestate. Una società che ha più aziende agricole sul territorio di Gela era già stata controllata un anno fa e nonostante le sanzioni combinate superiori al milione e mezzo di euro continuava a violare le normative previste per il lavoro in campagna da parte dei braccianti agricoli. Sempre nei campi è stato scoperto un allevatore che teneva in pessime condizioni igieniche e malnutriti ben 11 cani di varietà gli e razze assicurati una grossa catena e con una grave atrofia muscolare. I controlli mirati a prevenire e reprimere i combattimenti tra cani hanno permesso di affidare agli animali a un centro specializzato che se ne prenderà cura. Nell'ambito dell'operazione sono stati effettuati controlli anche ad attività commerciali che curano la gestione della raccolta del materiale ferroso e un titolare è stato sanzionato per la mancanza della compilazione del formulario dei rifiuti speciali. Un importante controllo ha previsto la verifica delle agenzie di onoranze funebri e di gestione del servizio privato di ambulanze. I servizi di controllo operati su gelenni scemi coordinati dal medico della polizia di stato hanno portato alla contestazione di migliaia di euro di sanzioni amministrative per violazioni delle leggi sanitarie, mancanza di condizioni igieniche delle agenzie di onoranze funebri, difformità dei locali di autorimessa dei carri funebri e automezzi con idoneità sanitaria scaduta. A seguito delle gravi violazioni sono state avviate quattro procedure per la revoca della licenza per il trasporto funebre. Spesso, seppur proibito dalla legge, le agenzie di onoranze funebri gestiscono anche il trasporto in ambulanza. Proprio questa violazione è stata contestata a tre agenzie per l'incompatibilità. Alcune delle ambulanze, seppur autorizzate dall'ASPA a esercitare l'attività di trasporto infermi, erano prive dei presidi sanitari prescritti, segno che una volta ottenuta l'autorizzazione, i titolari non si erano più presi cura di manutenerle, in alcuni casi aggiornando le scadenze. Ambulanze e carri funebri spesso non avevano alcuna copertura assicurativa e la revisione è scaduta. Inoltre, le ambulanze erano prive di estintori e erano scaduti a discapito della sicurezza dei malati trasportati. Gli esiti dell'attività di polizia giudiziaria sono stati rassegnati alla Procura della Repubblica di Gela per le valutazioni di competenza. E continuiamo con la cronaca. Stavolta quella giudiziaria. Saranno discussi in Cassazione, i ricorsi presentati dagli imputati condannati e coinvolti nell'indagine donne d'onore. Gli inquirenti concentrarono l'inchiesta su Nicola Liardo e sui familiari con accuse per fatti di droga e per presunte estorsioni. Vediamo. Saranno i giudici di Cassazione a febbraio a valutare i ricorsi avanzati dai legali degli imputati coinvolti nell'inchiesta donne d'onore. L'attività investigativa si focalizzò quasi esclusivamente sul nucleo familiare di Nicola Liardo, attualmente in libertà, seguito anche dell'assoluzione di primo grado nel giudizio sull'omicidio sequino. Secondo gli investigatori, lo stesso Liardo, seppur in quel periodo detenuto, sarebbe stato in grado attraverso i familiari di gestire spaccio di droga ed estorsioni. In appello non venne accolta la richiesta di aggravamento delle condanne indicata dalla procura generale. Lo scorso anno, infatti, vennero confermate le pronunce di primo grado emesse dalla Collegio Penale della Tribunale di Gela. Sei anni e nove mesi di reclusione per l'ossesso Nicola Liardo, sei anni e sei mesi per il figlio Giuseppe Liardo, sul quale pendevano diversi capi di accusa, gli erano già state riconosciute le attenuanti generiche e in primo grado cadde l'aggravante mafiosa. Quattro anni di reclusione per Monia Greco, moglie di Nicola Liardo, anche per la sua posizione venne meno l'aggravante mafiosa e le furono riconosciute le attenuanti generiche. Otto mesi con pena sospesa per la figlia Dorotea Liardo, tre anni e tre mesi di detenzione, infine a Salvatore Ragnolo. Decisioni che sono state impugnate dai legali che porteranno ad una pronuncia della Cassazione con udienza fissata appunto a febbraio. Gli avvocati Giacomo Ventura, Flavio Sinatra e Davide Limoncello esporranno le ragioni ai ricorsi presentati, non ci sarebbero mai state, secondo la loro ricostruzione, evidenze effettive di un qualsiasi coinvolgimento nell'imposizione e nella gestione della droga. L'inchiesta ebbe come sviluppo ciò che emerse dalle intercettazioni che venivano effettuate in carcere anche nel corso di colloqui tra Nicola Liardo e i familiari. Restiamo nell'ambito della cronaca giudiziaria, si è chiuso il procedimento che era scaturito dall'inchiesta Sant'Ippolito, gli investigatori concentrarono la loro attenzione su un gruppo che gravitava proprio nella zona dell'omonimo quartiere, le contestazioni che portarono al giudizio erano tutte concentrate quasi esclusivamente su fatti di spaccio di droga e su alcuni furti. È maturata però la prescrizione, il giudice Miriam D'Amore in settimana ha emesso la decisione. Il tempo trascorso non ha permesso di arrivare a decisioni diverse da quelle della prescrizione riconosciuta dal giudice e dalla procura. Per alcuni capi di accusa di furto ci sono state anche delle assoluzioni. Cambiamo pagina e passiamo alla politica. Un programma politico per la città suddiviso in sei punti da offrire ai candidati a sindaco e ai cittadini che volessero integrarlo. È l'idea partorita dal comitato civico Gela Brainstorming che adesso apre il dibattito sul web. Vediamo. I temi della città spesso al centro delle valutazioni avviati da partiti e movimenti con direzione amministrativa e vengono adesso declinati dal comitato civico Gela Brainstorming alla luce delle tante richieste ai singoli cittadini, organizzazioni civiche ma anche di tanti rappresentanti istituzionali della città sulla necessità di fare qualcosa per indirizzare il dibattito politico sulle questioni del territorio e non solo sulla qualità dei singoli candidati. Il comitato civico ha così voluto condensare anni di osservazione, di studi ma anche di esperienze e di confronti per creare una traccia da seguire per i prossimi programmi alle amministrative. Abbiamo cercato di condensare tanti anni di osservazione della città, tanti anni di idee lanciate e anche sempre perorate insomma da parte nostra in un programma che abbiamo diviso in sei punti, un programma fatto con l'intenzione di dare a disposizione ai candidati una piattaforma anche da integrare o da migliorare. Da questo incipit inizia un percorso fatto di vivibilità urbana, di sviluppo economico, di liberalizzazione, di cultura e di organizzazione alla macchina amministrativa che il comitato mette a disposizione di tutti, candidati o semplici cittadini, per essere sviluppato e integrato. Noi questo vogliamo, vogliamo creare la partecipazione dei cittadini e capire soprattutto però integrarlo sempre con la cognizione di realizzare, insomma proporre delle idee che possono essere nelle funzioni, nelle competenze che ha un'aggiunta comunale, un'assemblea cittadina o nelle possibilità dei cittadini di cose che si possono realizzare. Non chiediamo insomma delle opere faraoniche che sono di competenza dello Stato centrale, ma chiediamo cose semplici. Sullo sviluppo economico per esempio abbiamo messo tra le iniziative per migliorare sia l'occupazione sia i servizi, chiedere alle società che operano in regime di monopolio, in concessione, come per esempio quella delle distribuzioni idrica, quella dei rifiuti o enti insomma anche più grandi, di pianificare un piano di assunzione o di miglioramento dei servizi per la città di Gela, quindi prevedere da loro, da parte loro, di prevedere un investimento e una ricaduta sul territorio. Il documento, ribattezzato Programma per Gela 2024-2029, nasce dalla consapevolezza che le questioni della città si risolvono partendo dal recupero del senso di identità e dal recupero del senso di appartenenza del cittadino. Il problema è che il cittadino sia dal ceto basso sia al ceto alto non si sente coinvolto nella città e quindi perché un cittadino dovrebbe investire sulla sua città, fare un'attività commerciale o fare una famiglia qua, tutto viene sempre molto disprezzato. Quando un cittadino invece è innamorato della propria città, cioè tenda di fare qualcosa in più, tenda di dare qualcosa alla città e non solo di prendere. La versione integrale del programma è scaricabile sul blog di Gela Brainstorming, mentre una sintesi dei punti salienti è presente sulle pagine social del Comitato. E' fervo naturalmente i preparativi di avvicinamento alla campagna elettorale e poi successivamente all'amministrativa del 2024, progressisti civici e moderati impegnati nell'agora politica per la costruzione di un'alleanza finalizzata all'amministrativa hanno scelto di affidarsi al vicepresidente dell'Arsanuccio Di Paola. Sarà lui a incontrare tutti i gruppi e alla fine tentare di fare una sintesi sui potenziali candidati a sindaco e sul perimetro dell'alleanza al servizio. Dieci giorni per un giro di consultazioni tra tutte le anime dell'agora politica. L'incarico progressisti civici e moderati lo hanno affidato al parlamentare Arsanuccio Di Paola. E' durato circa tre ore il confronto sabato tra le forze del progetto per la città che vogliono creare una proposta amministrativa e politica alternativa a quella della giunta greco e della centrodestra. Si rivedranno al termine del giro di incontri che metterà Di Paola insieme ai rappresentanti di partiti e movimenti le visioni sul come affrontare il percorso verso le amministrative e su quale profilo ritagliare per la coalizione non sono del tutto conformi eppure per questo si è deciso di affidarsi ad un mediatore come il parlamentare Ars al quale tutti riconoscono una ruola importante politico istituzionale. Del resto tra i pezzi dell'agora politica c'è chi in più occasioni ha sostenuto che debba essere proprio il Movimento 5 Stelle sul territorio rappresentato da due senatori Pietro Refice e Chetti Damante presenti all'incontro e dallo stesso vicepresidente Ars Di Paola a dover prendere l'iniziativa alla dibattito hanno messo in luce anche questo aspetto. Nessuno comunque ha voluto rinunciare al confronto progressisti civici e moderati continuano a ritenere che l'agora politica possa essere l'abbiatico giusto e qualcuno vorrebbe cercare di non porre un vincolo assoluto consentendo eventuali nuovi innesti. Di Paola cercherà di finalizzare la sintesi tanto invocata. metterà insieme le indicazioni di partiti e movimenti sia sui nomi dei potenziali papabili a sindaco sia sulle criticità degli identikit che emergeranno. Sarà poi nuovamente l'agora a valutare, a decidere l'intenzione di stringere i tempi e la soluzione di Di Paola come moderatore sembra mettere tutti d'accordo. Non sarà facile individuare l'opzione finale e soprattutto destreggiarsi tra le belle età di gruppo. Per il parlamentare del Movimento 5 Stelle è essenziale che ci si trovi nella progetto comune che si decida all'unanimità se ci saranno le condizioni. Sarà presentato giovedì 25 gennaio alle 17.30 presso la libreria Orlando il docufilm Portella della Ginestra, una storia di potere, mafia e geopolitica. L'opera è tratta da un'idea di Maurizio Castagna, già autore del saggio Montelepre Caput Mundi. La presentazione è curata da FICC e Stella Maris con il supporto della libreria Orlando e in collaborazione con la nostra testata giornalistica e congelaforma. Sarà presente il professore Castagna, l'ecidio di Portella della Ginestra è una vicenda che ha segnato la storia italiana tra intrecci istituzionali e criminali, il docufilm al patrocinio della regione siciliana. Lato rifiuti non in regola con i pagamenti dovuti alle impianti SRR che gestisce la piattaforma di Timpazzo. Mancano le somme per i sovvalli e così l'amministratore di impianti ha deciso di aumentare le tariffe per lato al servizio. Il dialogo tra il management di impianti SRR e l'in-house della SRR4 che gestisce la piattaforma di Timpazzo e il servizio rifiuti e la guida del lato CN2 in liquidazione non è mai stato dei migliori. In ballo tra le altre cose c'è la copertura totale del ciclo locale dei rifiuti e sei sindaci del lato che fanno anche parte della SRR4 continuano ad insistere per il trasferimento di tutti gli asset e dei rapporti in essere proprio alla SRR. Non sono mancate iniziative giudiziarie autorizzate da impianti SRR nel tentativo di recuperare consistenti somme per quelli che si ritengono mancati pagamenti proprio da parte di Ato che conferisce sovvalli del compostaggio a Timpazzo. Entro fine mese, dopo un lungo periodo di sequestro, dovrebbe riprendere l'attività del sistema di compostaggio di Brucazzi consentendo ai comuni dell'ambito, compreso quello di Gela, di conferire senza rivolgersi ad altri siti fuori dal territorio. Nelle casse di impianti SRR però mancano ancora pagamenti per oltre i 500 mila euro. Si tratta di compensi che Ato avrebbe dovuto garantire per il conferimento dei sovvalli nel periodo compreso tra aprile 2021 e settembre 2022. È stata attivata un'azione giudiziaria per il recupero. Per l'amministratore di impianti Giovanna Picone attualmente Ato verse in una situazione di morosità. Per questo motivo ha disposto che venga elevata la tariffa dei conferimenti, portandola allo stesso livello di quella prevista per i sovvalli che arrivano da altri territori. Fino ad ora era stata concessa una soglia calmierata di 110 euro a tonnellata, oltre al tributo da 2,47 euro per tonnellata. Senza i pagamenti che per impianti sono dovuti, la tariffa viene quindi innalzata a 150 euro per tonnellata, oltre al tributo speciale previsto dalla normativa in materia. I sovvalli del lato sul fronte tariffario sono così equiparati a quelli che pervengono da altre aree dell'isola. Lo sport prima di chiudere con una visione di quello che è accaduto nell'ultimo weekend sportivo appena trascorso, con le reti di Gambuzza, Tuve e Resuf, il gel è tornato a successo contro il Real Siracusa. Una vittoria di rabbia per la formazione di Mirko Fauciana, che ha messo in campo determinazione e caparbietà. I biancazzurri si riprendono così il quarto posto, ma la tensione resta, con i tifosi della Boscaglia che hanno contestato con cori pesanti il presidente Maurizio Melfa. Vediamo. Serviva una reazione forte e la reazione c'è stata. Il Gera ha battuto il Real Siracusa 3-0 ed è tornato al successo dopo la batosta di Paternò. Una squadra che ha giocato con grande determinazione, con grande rabbia, aveva voglia di dimostrare che non era quella vista la domenica precedente, doveva subito ben sette reti e dopo una settimana anche di critiche e contestazioni. Gruppo che si è anche compattato e si è giocato un'atmosfera surreale. Stadio Presti semideserto, circa 300 spettatori. La curva deserta per 45 minuti è ripopolata soltanto nella ripresa, con anche critiche e qualche coro contro uno dei due presidenti. Dicevamo invece della partita con Fauciana che ha dovuto rinunciare a Trentacoste e Bellomo infortunati, con D'Agosto in panchina non in perfette condizioni e con Tomaino che è stretto i denti e invece è giocato titolare. Gela che è sembrato già diverso rispetto alle ultime apparizioni sin dai primissimi minuti e il gol è arrivato dopo appena 13 minuti da un inserimento, il solito dalla sinistra, croce e delizia di Damiano Loggiudri, il cross teso, si è inarcato di testa il capitano Raffaele Gambuzza e ha sbloccato la partita portando in vantaggio il Gela. Sicuramente un gran bel gol. Gela che potrebbe dilagare già alla mezz'ora, lo stesso Loggiudici si procura un calcio di rigore, viene sgambettato ma il fantasista del Gela si fa ipnotizzare dal portiere Agliano, forse un po' troppo fuori dai pali, che abbranca il pallone in due tempi, poi solo ribattuta, Alves non riesce a metterla dentro. Lo stesso Loggiudici potrebbe rifarsi appena dopo tre minuti e mezzo quando Resouf gli serve su un piatto d'argento il gol del raddoppio, anche il tempo di stoppare il pallone, alzare la testa, ma trovare il piede ancora di un perfetto Agliano. L'unico squillo del Rea Siracusa arriva al 41esimo con il colpo di testa di Montagno che sfiora l'esterno della rete. Prima che si chiude il tempo si fa male il centrocampista a tre piedi, costretto ad uscire per un problema muscolare. Nella ripresa la musica non cambia, gela sempre d'assalto, all'undicesimo arriva il raddoppio grazie a Tuve che dopo una mischia in area di rigore riesce a trovare il momento giusto per mettere la palla facile facile alle spalle del portiere Agliano. 2-0 gela e dopo appena tre minuti pasticcio della difesa del Real Siracusa che non fa scattare il fuorigioco per Resouf è facile andare al gol e segnare il 3-0 definitivo. Ci potrebbe essere gloria anche per Tomaino al 28esimo, ma il suo controllo è perfetto e altrettanto bravo sul tiro e ancora una volta il portiere del Real Siracusa. Alla mezz'ora potrebbe fare bis anche Tuve ma la traversa ferma il tiro di sinistro dell'esterno bianco-azzurro del Gela. Il finale soltanto per dare ossigeno e spazio ai giovani del Gela oltre che a Flavio Ferrigno, anche allo stesso Caci, a Dazzolina e allo stesso Signatella. Il Gela ritrova il successo ma non trova la serenità visto che a fine partita ci sono state scintille tra la curva e la dirigenza del Gela con la squadra che per la prima volta non ha salutato i propri tifosi. Passiamo alla palla a canestro. La Melfast Gela Basket chiude il girone d'andata nel migliore dei modi vincendo contro Gravine. Il risultato finale è di 77 a 68. Nel primo tempo gara equilibrata con la squadra di casa che non va praticamente mai svantaggio e chiude i primi due carti avanti di 4 punti. E nel terzo quarto che i bianco-azzurri dilagano con un parziale di 27 a 21 allungando di altri 6 punti fino alla doppia cifra di vantaggio. Nell'ultimo parziale la compagine gelese si difende bene e alla fine porta a casa i due preziosissimi punti. L'obiettivo principale era quello di rialzarsi dopo la sconfitta di Comiso ed è stato raggiunto con i bianco-azzurri che hanno regalato ai tifosi una partita spettacolare tenuta sotto controllo per tutti e 40 i minuti. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Siamo in chiusura naturalmente. Se volete approfondire tutte le nostre notizie le trovate sul sito www.quotidianoigella.it Se invece volete rivedere o condividere tutti i nostri servizi li trovate naturalmente sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Youtube. Per il momento è tutto. Vi lascio come di consueto alle nostre previsioni meteo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.